Oliviero Toscani torna a Napoli in occasione del lancio della nuova campagna pubblicitaria di Original Marines presso la stazione Toledo della Metropolitana, un evento che a partire dalle 19.30 di questa sera darà vita in piazza Monte Calvario ad una vera e propria festa, con momenti di musica live, performance di artisti di strada e degustazioni di specialità partenopee. Alla presentazione del lavoro fotografico di Toscani, ideato e realizzato senza l'utilizzo di modelli ma con i volti di ragazzi napoletani, hanno partecipato tra gli altri anche il professore Achille Bonito Oliva, coordinatore artistico del progetto Metro dell'Arte ed il sindaco Luigi De Magistris. Oliviero Toscani, suo malgrado, lui non lo sa, ma io sì, è un artista, perché in fondo l'artista che cosa fa? Massaggia il muscolo atrofizzato della sensibilità collettiva, introduce un sistema di allarme e quindi crea una sorpresa, un inciampo che non è solo visivo ma anche mentale. Artisti e aziende che hanno origine nella nostra città hanno puntato per lanciare la loro campagna di marketing sui nostri figli, sui napoletani. Questo è un senale molto importante, a dimostrazione che Napoli è la patria della creatività, è una città che ha un'energia enorme, poi è bello ascoltare parole come quelle di Bonito Oliva e di Toscani che danno un primato alla città di Napoli, un primato del bello e della creatività, per me da napoletano è un motivo di grande orgoglio. Oliviero Toscani ha già legato il suo nome alla città partenopea con la mostra permanente razza umana attualmente esposta all'interno della stazione Toledo, il pannello illuminato che scorre lungo 170 metri di tapirulan e un gigantesco collage di volti che accompagnano il viaggiatore fino all'uscita in superficie.